Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati sul nuovissimo video super mattutino e stra-hypato per questo capitolo 1 assieme al suo ritorno Ma secondo voi potevo non cominciare tale video con un frammento del Rift che ci va appunto a designare qualcosina che riusciremo a vedere nei prossimi giorni Vi ricordo che la stagione a tema capitolo 1 comincerà il 3 novembre alle 8 del mattino O meglio, alle 8 del mattino terminerà quella attuale, dopodiché i server andranno offline per qualche ora Tempo di scaricare il tutto, lasciare quant'altro e ragazzi ci fionderemo nella mappa del capitolo 1 a partire dalla season 5 fino alla season 10 sempre del capitolo 1 Dopodiché capitolo 5 dopo i 30 giorni e vabbè, vi spiegherò tutto meglio anche nei prossimi video Mi raccomando partiamo subito con un bel pollicione all'insù da parte vostra, condividete questo video con tutti i vostri amici, fatevi vedere che cosa stanno combinando e soprattutto che cosa tornerà Codico Martex è la tienda The Fortnite ragazzi miei, mi raccomando aggiornatelo prima che questa season volga al termine Perché poi la mattina dell'aggiornamento, la mattina della nuova stagione dimenticate di farlo Quindi andate ora nel nego soggetti e riaggiornatelo Quello che vedete è il primissimo teaser pubblicato ieri 31 ottobre alle ore 15 Praticamente 15 minuti dopo essere andati in live, eh sì, Epic Games mi ha voluto fare un regalino superirli Abbiamo una bananita parecchio remixata e adesso vi dirò il perché Il comeback, quindi il ritorno dei carrelli L'M4 qui in alto E poi la torretta, però quella che si va a piazzare proprio sulle strutture E quella che praticamente si prendeva uno slot all'interno delle vostre trappole Perché sì ragazzi torneranno anche le trappole con il capitolo 1 Mamma mia, per quanto riguarda le skin remixate Qui abbiamo un mix tra bananita e gelato, gelatino Questo cappottino è bellissimo, tra l'altro mi avete fatto notare una cosetta Le texture degli alberi potrebbero essere proprio quelle del capitolo 1 Quindi sì, anche a livello di grafica potremmo tornare indietro Ore 16 abbiamo un altro teaser, sempre da parte di Epic Su Twitter e su tutti i loro vari social Qui in alto a sinistra vedo una girosfera Ricordate questo item per muoversi intorno all'isola Gli alberelli mi ricordano quelli presenti a Parco Pacifico Anche perché sì, ci troviamo all'interno di un parco E proprio qui sulla destra, sulla parte di questo frammento Vediamo quella che potrebbe essere una spalla o un braccio di una skin Tra l'altro tenetevi pronti perché tale cosa non sono riuscita a leggerla da nessuna parte Però comunque sì ragazzi miei, salta parecchio all'occhio E dopo mi direte se ho ragione Qui le cose cominciano a scaldarsi parecchio devo dire Abbiamo la primissima skin E sì, il braccio barra spalla del teaser precedente apparteneva proprio a lui Ricorderete sicuramente tutti quanti il Cavaliere Nero Una skin iconica della stagione 2 capitolo 1 E quindi skin finale del Pass Battaglia Non è una di quelle skin che fan parte delle stagioni che vivremo nella prossima season Però a quanto pare qui abbiamo una sorta di mix tra un Cavaliere Ed un qualcosa che ha a che fare con il ghiaccio Perché ci sono dei frammenti qui che vanno a richiamare quest'ultimo Soprattutto la pettorina qui in basso Quindi potremmo dire un remix tra Cavaliere Nero In questo caso un Cavaliere Bianco E il Re dei Ghiacci Qui al centro poi abbiamo un PNG Che viene utilizzato da credo 6 anni Perché ragazzi è quello vecchio Dopo magari ve lo rifarò vedere in un'altra immagine Arriveremo anche lì E qui in alto a sinistra Ragazzi miei abbiamo il ritorno di un altro item Mobility e quindi l'aereo E molti mi avete chiesto se riusciremo a guidare anche nel capitolo 1 Le attuali auto Io non credo che tutto ciò sarà possibile Perché ragazzi questi oggetti torneranno proprio a favore del movement in gioco E quindi avremo qualcosina che riguarda proprio l'OG Carrelli, aerei, overboard, quad e quant'altro Passiamo al quarto teaser Perché ieri ne hanno droppati un bel po' ragazzi E la cosa è stata entusiasmante Ogni ora un teaser Mi piaceva si andava a completare sempre di più questo puzzle Che avevamo appunto cominciato alle ore 15 Come potete ben vedere Quaggiù abbiamo una parte inferiore della skin di Bananita Ed eccolo qui raga Guardate Quel cappottino che abbiamo visto ad inizio video Appartiene appunto alla skin del gelato Lil whip E se fate caso alla skin originale Qui avrà lo stesso identico badge Però in questo caso Nella nuova skin che troveremo nel prossimo Oramai mi viene da dire prossimo capitolo Ma nella prossima stagione Si chiama Lil Split Perché è un gioco di parole tra banana Ok vabbè Tra l'altro noto anche che sta portando le vecchie curabombe Tuttora presenti anche nella season attuale Ma comunque sia un qualcosa che appartiene al vecchio capitolo Ok abbiamo un altro item qui Dovrebbe essere la vecchie cara Light Machine Gun Eccovela qui E la sta portando il nostro caro Ragnarok Però osservate bene Qui vedo dei dettagli particolari E secondo voi quelle skin vanno a ricordare Delle vecchie season del capitolo 1 Potrebbe essere un Omega Continuando abbiamo un altro frammento Che va a mostrare La parte superiore del cavaliere Di cui vi ho parlato qualche istante fa Eccovelo qui Notiamo un dettaglio particolare Raffigurante Credo che sia il suo badge Se qualcuno qua di voi Riesce a condividere un indizio Qua sotto tra i commenti Riguardante questo logo Gliene sarei davvero grato Concludiamo con quello che è l'ultimo frammento Ma dopo li uniremo tutti quanti E guardate un po' che cosa abbiamo La stessa identica skin Che vi ho fatto vedere fino ad ora Tra l'altro mi ricorda anche Il paladino di Fortnite E la skin praticamente di Jojo Il comeback Del pompa della nonna Pompa del nonno Come volete chiamarlo Lo scar Qui raga Comunque queste skin Sono meravigliose Sono davvero bellissime Un kart E non so che cosa Stia accadendo Su questo kart Perché vedo un colore Straviolaceo E ovviamente Ragazzi miei Quelli che sono i prop Vecchiotti Delle auto Quindi Molto probabilmente Una conferma Che non ci saranno Le auto attuali Queste cassette di munizioni E ovviamente questo muro Richiamano alla grande Quella che era La primissima Immagine Del capitolo 1 Vi giuro Non ne ho sentito Parlare da nessuna parte Vi mostro subito Questa cosa Molto probabilmente La ricorderete Ditemi se non è Simile All'immagine Che andremo A formare Con tutti i frammenti Visti Finora Il PNG Di cui vi parlavo E ecco velo qui Utilizzato Nel vecchio capitolo E rivisto Nell'immagine Attuale Bellissimo I resti Di una casetta Ovviamente Quest'ultima Viene utilizzata Come riparo Da parte di Jonesy E il bus Della battaglia Là in alto Le ammo Sono qui In basso a destra Proprio come Nell'altra immagine Anche se li abbiamo Sulla sinistra E vabbè Ma tenetevi pronti Perché unendo Ogni singolo frammento Uno a fianco E l'altro Quindi Viene fuori Quest'immagine Ragazzi miei Guardate qui Che cosa abbiamo Ditemi quello che volete Ma è similissima A ciò che vi ho fatto vedere Qualche secondino fa Raga È troppo bello Tutto ciò Per il momento Promette bene E ovviamente Ci saranno altri teaser Che verranno rilasciati Nel corso Della giornata Quindi Sarò in live Per assistere a tutto ciò Assieme A voi Ragazzi mi raccomando Non mancate Sarò anche in live Il 3 novembre Il 4 novembre Per scoprire ogni singola cosa Assieme Una maratona interminabile Per questa stagione Voglio una miriade di like Da parte vostra Per questo capitolo 1 Ragazzi Non deludetemi Assolutamente Quindi fino ad ora Quello che veniva racchiuso Tramite ogni singolo teaser Ce lo troviamo di fronte A quest'immagine Bellissimo E come già detto Le skin Dovrebbero essere Una sorta di Remix Tra di loro Quindi due skin Delle vecchie stagioni Del capitolo 1 Che ne vanno A formare Una sola Giunti alla conclusione Di tale video Ragazzi miei Io spero ovviamente Che il tutto Sia stato di vostro Gradimento Fatemelo sapere Con un bel pollicione All'insù Ed un commento Qua sotto In quanti state Aspettando il mega Comeback Del capitolo 1 Saremo in live Per tutto ciò Guardate Loggando in gioco Che cosa mi sono ritrovato Oh mio dio La crew si è aggiornata E mi sono arrivati Un sacco Di skin Oddio un sacco Di skin Il secondo stile Di shimmer dusk Che ha killato Il nostro caro Cado Torn Ciao ciao Bello mio E dragon Ibrido d'acciaio La primissima skin Del capitolo 1 Possiamo ritenerla tale Raga Possiamo ritenerla Come la prima skin Del capitolo 1 Perché è quella Che ha ricevuto Una sorta di Edit Style Andiamo qui Con 1000 V-Bucks Rocket Pass E riscattiamo Tutto quanto Spulciatina Velocissima Nego soggetti Con un bel codico Martex E la tienda De Fortnite Abbiamo Fortnite L'incubo Qui in alto Come evidenza Sono rimaste Le skin Per l'1 novembre Fortuna Attenzione Però perché Spariranno A brevissimo Vediamo Vediamo Ma Il crackshot Ah ok Perché c'è lo stile Sì 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 Vabbè Ok Mamma mia Oh La falce Non è stata rilasciata Per niente Raga Ve l'avevo detto Non è stata aggiornata Come item E quindi Nulla Non l'hanno Droppata I mod per 4 giocatori Bellissima Noi ci becchiamo Più tardi Live Oppure alle 14 Con un nuovo shorts E nient'altro Un salutone Da parte mia E come al saluto Un bel Ciao brothers